Il stacchino di Riccardo, Dino Brecht è il nostro poker manager Domenico Tresan in attesa che scoppi la bandierina per festeggiare alla corsa e poi Dino dichiarà che se stiamo in bandierina facile si va per il tavolo qui Il primo step è arrivare al Lemone Adesso abbiamo fatto la strategia per le prime 24 mani e dopo ci aggiorniamo a passare i primi tre liberi Va bene, allora vi lascio a questo, anzi lascio Dino a questo dei tre e te invece Io sei ribito Ormai sono grandi servizi Va bene, ciao, grazie